In Emilia Romagna si è vinto sui fondamentali sostanzialmente, buon governo sì, ma a un certo punto è scattato un no grazie a una incursione di un turista che sparava cose troppo esagerate per la digestione degli emiliano-romagnoli. Negli ultimi giorni si è sentita questa onda che veniva dai valori e naturalmente questo è un risultato utile per ripartire per la sinistra, la sinistra non deve farsi illusioni, se non vuole guardare la Calabria dia un'occhiata a Piacenza o Ferrara, c'è tanto da fare e credo che questi valori che sono un po' diffusi anche nel resto d'Italia hanno bisogno di interpretazione politica e programmatica, bisogna mettere in moto una cosa nuova, c'è poco da fare. Qui a Piacenza bisogna metterci umiltà, io fin da piccolo ho imparato cosa vuol dire stare in minoranza, riconoscersi come minoranza, avere un rapporto amichevole e positivo verso quella parte di popolo che non riesce ancora a convincere, ritessere le file dal basso, dai singoli territori, lavorare insomma e non accettare che si crei un'estraneità tra questi territori e la dimensione regionale, perché questo sarebbe un problema, è sempre stato un po' un problema, non vorrei che si riproponesse magari in modo anche aggravato.